Musica Considero due triangoli qualsiasi ABC e A'B'C' che hanno i lati AB e A'B' congruenti. Disegno le altezze relative agli altri due lati. Rispettivamente BH e AK per il primo triangolo e B'H' e A'K' per il secondo triangolo. Le altezze sono congruenti tra loro, cioè BH è congruente a B'H' e AK è congruente ad A'K'. Posso dimostrare che i due triangoli sono congruenti. Metti in pausa il filmato e prova a dimostrarlo. Considero i triangoli ABK e A'B'K'. Essi hanno rispettivamente congruenti l'ipotenusa e un cateto per ipotesi, perciò sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Di conseguenza, gli angoli ABK e A'B'K' sono congruenti perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Considero poi i triangoli ABH' e A'B'H' Essi hanno rispettivamente congruenti l'ipotenusa e un cateto per ipotesi, perciò sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Di conseguenza, gli angoli ABK' e A'B'K' sono congruenti perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Riparto dai due triangoli ABC e A'B'C'. Essi hanno i lati AB e A'B' congruenti per ipotesi, gli angoli ABC e A'B'C' congruenti per la prima dimostrazione, Di conseguenza, i due triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza. Se i due triangoli ABC e A'B'C' fossero ottusangoli invece che acutangoli come nella dimostrazione appena vista, le cose non cambierebbero molto. Considero i triangoli ABK e A'B'K'. Essi hanno rispettivamente congruenti l'ipotenusa e un cateto per ipotesi, perciò sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Di conseguenza, gli angoli ABK e A'B'K' sono congruenti perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Considero poi i triangoli ABH e A'B'H' Essi hanno rispettivamente congruenti l'ipotenusa e un cateto per ipotesi, perciò sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Di conseguenza, gli angoli HAB e H'A'B' sono congruenti perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. La situazione che si viene a creare con i due triangoli ABC e A'B'C' è la stessa di quella ottenuta precedentemente, perciò i due triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza. Grazie a tutti.